Amici carissimi, mi sono spostato di 200 metri rispetto a quel camioncino, l'OM Cerbiatto che vi ho mostrato in abbandono nello scorso video e guardate qua cosa trovo, una piccola zona con dei motorini abbandonati qui abbiamo un Morini, Morini Franco Motori, guardate che spettacolo, in abbandono purtroppo è anche pieno di zanzare però guardate che meraviglia e non è finita qui ci spostiamo e dopo questo Morini abbiamo un Garelli qua sotto guardate che meraviglia e poi qui abbiamo un blocco vabbè e poi altri due e via così qua dietro guardate che spettacolo abbiamo un CBA a variatore adesso mi è un po' difficile farvelo vedere comunque un CBA a variatore con marmitta, giannelli fire e poi qui abbiamo un Fantic veramente una bella scoperta come dicevo è pieno di zanzare quindi tolgo il disturbo con l'augurio ovviamente di tornarci magari recuperarli se possibile con questo vi saluto, video molto molto breve ci risentiremo sperando magari di riuscire ad acquistarli rintrasciando il proprietario ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti